Passiamo! L'Urso! 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 Tiro in mezzo, Shomuratov e Pellegrini, il cross dentro verso Lorenzo! Sulla mano d'Ugolibali, il cross in mezzo, Pellegrini, nelle grigorie, il tiro di Lorenzo! Pellegrini! Pellegrini! E' un po' strano, si, ci arriva indietro il pallone, ottimo per Pellegrini che pensa al tiro, a giro! Un gol magnifico! Il cross muro non è il cross, ancora per Pellegrini che mette giù nel limite, il tiro di Lorenzo! Pellegrini! Un gol spettacolare del capitano della Roma! In mezzo, ancora Calafioli, indietro per Pellegrini, il tiro di Lorenzo! Pellegrini! Un gol spettacolare del capitano della Roma! Pellegrini! 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 Pellegrini!